I ragazzi se ne vanno, vogliono andarsi da questo quartiere sempre, ci siamo guardati in faccia quelli che sono rimasti e gli hanno detto ma perché non proviamo a fare qualcosa? In tutto siamo riusciti a raccogliere sui 1500, dovremmo arrivare a 2000 euro, che ci permetteranno di fare 20 interventi. L'intervento di Umino vede una Ingrid Bergman mascherata, come a dire che ognuno di noi può essere un eroe o un'eroina. Accanto c'è quello di Solo, che rappresenta una Wonder Woman incinta, una cosa che ha commosso tutte le donne del quartiere, che ci ha permesso di parlare con le famiglie di quanto sia difficile portare avanti una gravidanza, quanto sia difficile far crescere dei bambini con tutti i problemi che abbiamo, a volte anche in una situazione di monogenitorialità. E poi arriviamo con quello che è stato definito il nostro Caravaggio, dove Lewis ha reinterpretato un frame del film molto importante. È una meraviglia! La periferia è una condizione umana, è più periferico dove manca la poesia.